Sono un investigatore di un'Università di Michigano. Come background sono un oncologista medico e durante il mio trening ho realizzato l'importanza della medicina personalizzata. Inoltre, l'unica di un biomarker accurato e validato per guidare la medicina personalizzata rende un challenge per fare in clinica. E quindi, come vedete, gli estrogensi di receptore positivi metastatici sono più eterogenei e ogni passione ha un unico cancer. E questo è il motivo che solo 50-60% dell'hormone di receptore positivi metastatici rispondono alla terapia endocrinale ma, inoltre, tutti sviluppano resistenti e morti. E quindi, con il mio mentor abbiamo deciso di investigare con la ricerca di città di tumore tutto il peso di tumore in un piccolo volume di sangue. e abbiamo sviluppato questo indice che si chiamano Circulazione di Tumore Celle Endocrine Therapi che è basato su numeri di CTC e sulle espressioni relativi di alcuni marker che sono associati con la resistenza endocrinale come l'espressione di l'estrogene e il BCL2 e l'espressione di L2 e K67. In order to translate this finding to clinic we design a phase 2 trial called committee phase 2 to see if a CTCTI could identify patients that are estrogen receptor positive metastatic breast cancer that are refractory to endocrine therapy. alla prossima